e mario un commento sulla cesta di vecchi vecchi veramente penso che potrebbe fare le gare di questo sport ha rischiato la vita però veramente il migliore sulla piazza ma è portato molto molto portato adesso sta risalendo non ce la fa più la fa più la fa più Grazie a tutti.